Siamo la parola all'assessore Lada e a notti. Buonasera e grazie per l'invito. Questo è il mio primo intervento pubblico in veste di assessore. Sono felice che l'invito al mio primo intervento sia stata la fiera di San Martino perché è un giorno un po' particolare per me ma per tutti voi perché rappresenta un po' quel ritorno agli odori di un tempo, ai sapori di un tempo alle passeggiate per la fiera con i nonni, nel mio caso non ci sono più quella giornata dedicata magari agli artisti che si facevano in tradizione solo in questa occasione. Quest'anno gli organizzatori, qui vanno i miei complimenti hanno cercato di rendere questi quattro giorni di festa un anello di congiunzione tra antico e moderno, quindi tra rievocazione storica e intrattenimento in piazza per i più giovani. Quindi un anello di congiunzione tra cultura, arte, che ci sono state varie mostre fotografiche e anche intrattenimento nelle piazze e quindi anche convivialità. Credo che la fiera, per quanto in questi anni sia cambiata tantissimo, debba rappresentare per le nuove generazioni un'orma di tradizione ben definita da cui partire per proporre delle nuove spinte evolutive, quindi affidandoci alle proposte e alle idee anche dei più giovani. Vi ringrazio per, ripeto, per l'invito e lascio la parola prima al mio collega consigliere Ernesto Volpe e poi ai relatori. Buona cura a te. Allora, buonasera a tutti. Anche per me, come ben sapete, Allora, buonasera a tutti. Allora, buonasera a tutti.